ben tornati cari amici che ci seguite da youtube oggi si parla nuovamente di una decklist di force of will oggi andiamo a parlare di lennet la sacerdotessa di vel savaria si tratta di un mazzo prettamente control che mira veramente a vanificare le giocate dell'oppo non tanto perché ha opere di counter ma quanto perché tutto quello che del nostro oppo vede toccare il campo noi glielo facciamo sparire proprio così amichevolmente andiamo a conoscere meglio la nostra lennet anche chiaramente a straniero 10 giudizio costa due luci un fuoco rinvigorire luce fuoco ogni qual volta un emblema luce entra nel terreno sotto il tuo controllo scegli una delle opzioni e se l'emblema è caduceo scegli fino a due opzioni scegli una carta a caso dal mazzo dei stranieri e mettila nella tua mano o rimuovi dal gioco la prima carta del tuo mazzo e poi pesca una carta o rimuovi dal gioco un attore bersaglio con costo pari o inferiore a 1 oppure puoi pagare 0 per effettuare il giudizio fino alla fine del turno una volta aggiudiziata eccola qua un bel 1100 1400 quindi già delle statistiche oserei dire più che oneste bellissima l'art work devo dire e diciamo in entrata ci fa rimuovere dal gioco un entità non sovrano g non pietra magica bersaglio la sua arte degli dei potere di magna che costa una luce un fuoco scegli una carta a caso al tuo mazzo dei stranieri e mettila nella tua mano poi puoi mettere nel terreno uno straniero dalla tua mano quindi comunque sia direi un bel advantage andiamo a vedere gli stranieri inclusi in questo mazzo partiamo con quello che per me ormai è un classico a molti non piace io lo adoro l'arnese guaritore comunque è un 200 600 che scende a costo zero lo possiamo utilizzare o per fare piccoli danni o per fare piccoli blocchi ed all'evenienza bandire questa carta per guadagnare mille punti e pescare una carta direi che poi in questo mazzo anche il fatto di guadagnare mille punti va ad avere anche poi un riscontro con una carta che vedremo poi più avanti quindi per me ci sta ancora di più due copie di stregone bianco carta con risucchiare che fa sì che preverremo tutto il danno che sta per essere inflitto a risonatori con un segnalino più 100 più 100 su di essi e lo previene da canti o abilità in entrata distribuisce due segnalini più 100 più 100 su un massimo dicevamo di due risonatori o sovranigi bersaglio che controlliamo due per di sigfrido cavaliere del drago costo due un onesto 700 mille che vola a barriera da fuoco e da oscurità e in entrata distruggi un risonatore spossato bersaglio cartina che nelle altre decklist non avevamo ancora visto eccola qua tor la bianca folgore costa una luce ed un fuoco è un 8 8 un 800 800 in entrata ci fa rimuovere dal gioco la prima carta del mazzo e distruggere tutte le entità non pietra magica che il tuo avversario controlla che condividano il costo con la carta rimossa inoltre a costa di una luce questa carta si becca un bel più 0 più 200 fino alla fine del turno con un attributo fuoco andandolo a pagare potremmo fargli invece guadagnare più 200 più 0 fino alla fine del turno not bad lui ovviamente dove c'è il rosso non può non starci ragazzi è il nostro leoncino regulus il re del vulcano un mille mille rapido che ogni qualvolta viene inflitto danno a questa carta e si infligge altrettanti danni al tuo avversario quindi ti sta bene pietre utilizzate abbiamo quattro pietra magica del raggio di calore che andrà a produrci volontà luce o fuoco due della memoria di attorattia che produrranno l'attributo condiviso dal nostro sobrano quindi in questo caso comunque luce fuoco e quattro pietra magica dei vapore luminosi ebbene sì andiamo a splashare ragazzi con acqua quindi andiamo a vedere un attimino com'è la conformazione di questo mazzo giochiamo quattro copie del percival luce ovvero percival la cercatrice del santo graal è un resonatore cavaliere della tavola rotonda un 200 200 in entrata rivela le prime cinque carte del tuo mazzo puoi mettere nella tua mano un emblema o cavaliere della tavola rotonda tra di esse e il resto va messo in fondo al mazzo in qualsiasi ordine interessantissimo anche la seconda skill bandisci questa carta previeni tutto il danno che sta per essere inflitto a un sovrano g o cavaliere della tavola rotonda bersaglio fino alla fine del turno ovviamente diventerà un parafulmine per il nostro sovrano g quattro copie del sigillo di lennet perché no a costo 1 abbiamo questa addizione che in entrata va a rimuovere un'entità non sovrano g non pietra magica bersaglio che tuo avversario controlla ahimè quando lascerà il campo il pezzo che abbiamo rimosso ritornerà in campo però di sicuro è un bel una bella rimozione a costo basso incontriamo il tre per di ginevra la regina gelosa una 200 400 a costo 1 ci dà la possibilità andando a spostare se stessa e bandendo un altro risonatore bandendo un risonatore scusate di pescare due carte e poi scartare una carta inoltre anche un'abilità che costa sempre lo spostare la regina stessa ma anche il pagare un attributo di un'energia fuoco e cosa succederà che un risonatore bersaglio che controlliamo ottiene più 400 più 400 fino alla fine del turno ma quando esso infligge danno o gli viene inflitto danno in questo turno saremmo costretti a bandirlo abbiamo tre copie di galvano il cavaliere del sole costo due è un 300 700 fa sì che gli altri risonatori cavaliere della tavola rotonda si becchino un bel più due più due quindi comunque già è un piccolo booster che non ci dispiace ma soprattutto ogni qualvolta questa carta attacca o blocca spossa un risonatore bersaglio e qui fa partire veramente tante interazioni interessanti tre copie anche per fenice il fuoco inestinguibile si tratta di un 400 mille volante costo due fa sì che il nostro sovrano ottenga indistruttibile e non è poco e con due luce e due fuoco potremmo mettere nel terreno questa carta dal nostro cimitero o area rimossa dal gioco beh onesto quattro copie per luce di istruzione e rinascita una canto interessantissimo al lancio rapido costo due scegli un'opzione rimuovi dal gioco un emblema un'entità non sovrano g non pietra magica bersaglio con costo pari o inferiore a tre oppure metti nel terreno un risonatore con costo totale pari o inferiore a tre dalla tua area rimossa dal gioco o cerca un emblema luce dal tuo mazzo rivero le metti nella tua mano quindi rimozione e cerchino e addirittura ressino tre in uno veramente importantissimi per la nostra strategia qui abbiamo la spirale dei due serpenti ragazzi a costo due spariamo 600 danni e guadagniamo 600 punti vita inoltre andandola a risvegliare quindi pagandola tre di cui due specifiche luce e un fuoco potremmo anche prenderci una carta a caso dal mazzo degli stranieri non male per quanto riguarda gli emblemi ovviamente non può mancare il caduceo che si accompagna però con tre copie di excalibur il primo darà al nostro sovrano risucchiare e inoltre tra l'altro ha recentemente ottenuto un'errata per cui ve lo vado a leggere corretto allora potremmo produrre due volontà in qualsiasi combinazione di luce e o fuoco spendere questa volontà solo per giocare stranieri arti del mago e l'abilità attiva di 12 dei protettori che adesso è valida in qualsiasi zona ok quindi dettaglio molto importante poi ci fanno tre copie di excalibur che soprattutto ci aiuta per andare a pagare i costi delle nostre cartine in blu e in blu ragazzi abbiamo il 4 per della lama onda sacra altra cartina interessante e risvegliabile per andare a prendere uno straniero a caso dal mazzo degli stranieri ma non solo altra rimozione spettacolare rimuovi dal gioco un risonatore o addizione bersaglio se questa carta ovviamente è stata risvegliata poi andiamo a farci anche un più uno in mano però ragazzi qua le rimozioni in questo mazzo sono tutto all'inizio abbiamo visto uno straniero che ci faceva potenzialmente guadagnare mille punti vita ho detto che sarebbe tornato utile anche in combo con un altro risonatore eccolo qua giochiamo due copie di atena la guardiana della fiamma costa 3 è un 8 8 a volare risucchiare ogni qual volta guadagni punti vita metti due segnalini più 100 più 100 su questa carta e questa cosa ci piace un casino quindi già si capisce la possibile interazione del lo uso per fare un piccolo dannino oppure per parare poi me lo mangio il mio stranieretto andiamo subito a recuperare col col mio arnesetto guadagno mille punti vita pesco una carta lei si cicciona pure onesto inoltre pagando una luce possiamo far guadagnare possiamo guadagnare 200 punti vita o un fuoco questa carta infligge 100 danni a per ogni segnalino più 100 più 100 presente su questa carta a un risonatore sovrano gi bersaglio quindi diventa anche una rimozione interessante carta carta veramente spettacolare che questa strategia si sposa alla grande last but not least ragazzi abbiamo tre copie del risveglio della sacra regina che ci dà anche qui molti opzione avremo la possibilità di o andare a cercare un emblema luce dal mazzo e metterlo direttamente sul terreno che non è poco o anche qui guadagnare mille punti vita pescare una carta altra interazione che parte la grande o comunque sia un bel boost di più 4 più 4 su tutti i nostri pezzi e aver spossato un risonatore o sovrano gi bersaglio al nostro avversario quindi può essere una carta veramente anche questa qua come già avevo detto nel video dedicato a faria se l'avete perso andate a vedere altra cartona veramente bomba e con l'ennet si chiude la nostra prima carrellata dedicata ai nuovi mazzi pertinenti alle nuove uscite di force of will sono i sei ruler attualmente usciti stiamo in attesa di origini di alice 3 per vedere quali saranno le nuove carte che vandranno ad interagire sul gioco quali saranno i nuovi sovrani in arrivo nel frattempo magari ci inventiamo anche qualche altra lista in ogni caso ragazzi stay tuned perché qua non ci si ferma mai alla prossima